Please don't stop the music Wow 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 Grandi amici del tubo Ben ritrovati qui sul canale di Switching Music Signori Oggi l'aria è più frizzante Oggi l'aria è più sorridente Oggi l'aria è più fresca Perché è iniziata la nuova stagione dei giochi 2015-2016 E si parte oggi ragazzi Con come potete vedere FIFA 16 signori Siamo quindi nella creazione del mio personaggio Perché quest'anno Vorrei portare un po' di FIFA 16 sul canale E vorrei farlo con il Pro Clan Quindi andiamo a chiare il nostro personaggio Che invece di Switching Music si chiamerà Giancarlo Magalli Perfetto Come noto Noto Famosissimo Conduttore televisivo E persona a cui mi sono ispirato Più volte nella vita Noto come The Boss Nome telecronaca Nessuno Tanto non la sentirete Nome in sua divisa Ovviamente Magalli Guardate lì Signor Magalli Numero 8 Come sapete ormai è il mio preferito Adatogna C'è Quindi segnatevela Per quando farmi gli auguri Poi allora non abbiamo la Game Face Adesso ci metterò un po' a creare il mio personaggio Magari ve lo metto velocizzato E poi ci rimettiamo Ciao ceretà Sotica Cosas Ciao 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 Cansi Grazie a tutti. 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 Voglio che sia fluidificante. Altezza 1,78 m, come l'avevo messo io. 74 kg, come peso io. Se non l'ultima volta ho controllato. No, mettiamo 75 per non sbagliarsi. Mettiamo questi qui, così, a cazzo di cane. Poi altro non posso fare, bisogna sbloccare. Qui bisogna sbloccare. Stile calcio di punizione. Questa è una novità, signori, credo, di FIFA 16. Predefinito, perfetto. Ok, va bene, altro non c'è. Signori, useremo questa esultanza qua. Non è proprio quella che volevo, però è la Carmelo Angelini, praticamente. Guarda qua. Toc, toc, toc. In mossa finale caratteristica, invece, vorrei l'arciere. Eccolo qua. Bellissimo questo. Deve essere mio. L'arciere, signori. Giancarlo Magalli è pronto per dominare il Fulpro Club. Allora, ragazzi, ho creato anche un club che si chiama Sweet Ballers, signori. Così. Ballers che non c'entra molto col calcio, ha più che a fare col basket, ma sapete che io il basket non posso farne a meno. Quindi questo è il club, quindi se volete giocare con me ogni tanto, se volete almeno entrare nel club, aperto a tutti, quando volete, scrivete il nome, entrate e ovviamente vi accetterò, o se non serve accettare non lo so bene come funzioni. Ma, intanto, andiamo a fare una partita al volo, testiamo le capacità di questo Giancarlone Magallone. Oh, ho preso C.O.C. Si parte, signori. Dovrei essere quello con la stellina, io. Sì, esattamente. Perfetto. Partiamo subito, carichi, eh. Mi raccomando. Vediamo con chi siamo in squadra, gente forte. No, allora, C.O.C. non dovrebbe stare qui. Occhio subito l'occasione. Eccolo, palla al piede. Switching Music, se ne va. Occhio alle skill che non le sa fare, perde palla. Comunque, ragazzi, se vi interessa qualche prima impressione su FIFA, quest'anno sembra fatto veramente, veramente bene. E non ci sono le stronzate dell'anno scorso, nel senso che le difese difendono, i portieri parano, che voi mi direte è normale. Cazzo fa questo? E invece nel 15 non era così normale. E sembra veramente, sembra veramente fatto bene, ragazzi. Occhio al calcio d'angolo, intanto, eh. Non la prenderò mai, però mi butto. Mi butto. Mamma mia. Eccomi. Eccomi. Passa la Cristo Santo. Ma dai. No. Ma va a far culo, va. Dai, subito 1-0. Palla. Guarda, lì l'ha passata agli altri. Ma dai. Tieni qua, ciccio. Dai. Puoi ripassare? Bravissimo. Dai, facciamo due passaggi di fila, ragazzi. Dai. Guardalo. Sono partito. Sono partito. Che palle. Ero solo, ragazzi. Occhio che l'ho recuperata. Occhio che... Oh. E si riparte. E così si mi usa. Ne salta uno. Occhio alla palla che può partire. Oh. Non era per lui. Vabbè, vabbè, dai. Dai, raga. Via questo secondo tempo. Su. Dobbiamo come minimo pareggiare. Guarda che pressi. Subito. Peccato. Questo è mio. Questo è mio. Me lo magno. No. Eccomi qua. Dai che ripartiamo. Il contropiede. Attenzione. Bellissima azione. Ti prego, non buttiamola nel cesso. Dai, facciamo gol. Madonna. Insopportabili questi che non appassano. Dai, raga. Voglio fare un cazzo di tiro in porta. Da qui alla fine della partita. Chiedo tanto su un tiro in porta che magari faccio anche gol. Perché qua non è che proprio sto giocando con e contro dei fenomeni. Dai che l'ho recuperata. Così. Così. Prendila. Prendila. Guarda che bella palla. Switching Music. Con l'assist. No, ancora facciamo troppi passaggi. Ma dai. Ma dai. Sempre lo stesso stronzo. 2-0. Voglio fare un tiro in porta. Occhio che ci fanno anche il terzo. Che palle. Ragazzi. Prima di Giancarlo Magalli non è andata proprio alla grande. Comunque era giusto per farvi vedere un po' di gameplay. Insomma. Oh. Figa questa esultanza nuova. E finisce qui ragazzi. 3-0 abbiamo perso. Vabbè. Non sono giusto a fare un cazzo. Però va bene uguale ragazzi. Spero che comunque. L'importante era farvi vedere un po' la cazzo del personaggio. Il club in cui dovete entrare. Così possiamo giocare assieme. Ed è più divertente che giocare con gente a cazzo di cane. Detto ciò spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi se non avete ancora fatto. Un bel mi piace. Che fa sempre bene la salute. Ci rivediamo nel prossimo video. Bye.